Un carico di peluche, la scopa in mano e un fazzoletto in testa. La Befana questa mattina è arrivata al Policlinico Gemelli di Roma. Un bacetto, te lo mando, un cuore amore. Al fianco della cara vecchina i poliziotti, promotori dell'iniziativa, e l'attrice Umbra, Emanuela Aureli. Tesori della zia, ciao, quanto me voglio bene, ciao, tutto a posto. Non mi spaventate. Buongiorno, ciao, mamma mia, ti piacerà la cioccolata, vedrai. A far ridere i piccoli pazienti anche un improvvisato prestigiatore, poliziotto di lungo corso e padre di famiglia. Sei pronta che se scoppia? Non lo so neanche io. Ci proviamo, pronti? Attenzione. Ecco qua, guardate, guardate. Intanto al Policlinico Umberto I, sempre a Roma, un'enorme aquila varcava la soglia del reparto di oncologia pediatrica. Il simbolo del corpo forestale dei carabinieri ha portato doni e regali ai piccoli ricoverati, affinché diventino potenti come lei e vincere la loro battaglia per la vita.